Cinecittà celebra Francis Ford Coppola. Il suo ultimo film, Megalopolis, ha inaugurato ieri la Festa del Cinema di Roma, che comincia oggi 15 ottobre. In un'atmosfera di Roma imperiale e accompagnato da una cena sontuosa con celebrità del cinema e dello spettacolo, il Teatro Dieci ha ospitato un evento speciale per Coppola, che ha compiuto 85 anni. Presentatosi in un elegante smoking al fianco della nipote Gia, anch'essa regista, ha incantato tutti con il suo stile raffinato. Ecco chi ha calcato il red carpet. Grazie. 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 Grazie.